Per la 27esima giornata del campionato nazionale direttanti Serie D G1F scendono in campo le squadre di Alma Juventus Fano in maglia granata e San Nicolò in maglia azzurra con inserti bianchi. In posizione regolare Nico Gucci, Gucci mette nel mezzo, c'è Sivilla che spara alto di sinistro. Nel finale parte Borrelli, vediamo Davide, direttamente in porta la patta di calore, attenzione. C'è il cartellino giallo, vediamo. E ora Sivilla ha l'occasione di sbloccarsi finalmente, tornando al gol, minuto 23, Sivilla contro il calore. Andrea Sivilla, il destro di Sivilla contro il calore, parte Sivilla, Andrea Sivilla! E' corner per l'alma che ora sui reali dell'entusiasmo naturalmente prova a raddoppiare. Davvero una bella alma, come non la vedevamo da tanto troppo tempo. Davide Borrelli, dalla bandierina. Il cross di Davide, c'è Gucci, di testa e gol! Niccolò! Gucci! Tutto pronto per il secondo tempo qui allo Stadio Mancini di Fano. corner per il San Niccolò, una delle ultime occasioni per la formazione allenata da Mr. Epifani per siglare almeno il gol della staffa. Il traversone allontana Bartolini. C'è Marconi verso Ambrosini. Alex Ambrosini contro il calore, questa volta vediamo Alex Ambrosini. Ambrosini, Ambrosini, il tiro di Alex e il gol! Alex Ambrosini! 3 a 0 e finisce così, e finisce così con il gol proprio al 49esimo, 48esimo. Il gol di Ambrosini, il fischio finale.